E anche tu per tenere Ume e prendere un play italiano. C'era anche l'altra ipotesi interessante. Stai impallando una telecamera per fare le tue meravigliose fotografie. Gamberini, io capisco che sei ancora nel clima di Trieste, peraltro hai una maglia triestina perché quella arancione è aberrante, quasi come le mie camicie. Però non entrare direttamente in studio nel totale, facciamolo entrare. Facciamolo entrare, vieni per punizione, vieni, vieni, passa, passa pure tranquillamente. Passa, passa, fai vedere, vieni pure a fare le foto in studio, vieni, vieni, vieni. Allora, passa, passa, vieni, vieni. Questo è l'uovo della comunicazione della Virtus. Che ha impallato le telecamere. Che ha impallato le telecamere e non era facile perché non è un gigante, voglio dire. Però io non ti chiedo dove hai comprato quella maglia perché potresti dirmi dove tu hai comprato la camicia, quindi francamente non ti punzecchio. Però se fa un incidente in autostrada o buca la gomma non ha problemi. No, questo è tranquillo, qui non ha problema. Puoi fare gli ultimi due scatti? Sei venuto qua per fare due foto a lei, eh? Ma ti viene un po' altri cavallo, mi fai la cortina? Ti puoi alzare un secondo? Io potrei farli da custodia. Esatto, esatto. Cioè, Giorgio è la matriosca di Gamberini praticamente. Perfetto, Gamberos. Tu non potevi fare il modello, potevi fare il fotografo. È andata così. A questo punto grazie, grazie per lo splendido lavoro a livello comunicativo che hai fatto. Adesso non parlare mai più. Torna a scivolare. Se no ti mandiamo in un'altra mittente. Ho fatto posta, secondo me l'ho fatto posta per avere questo minuto di gloria. Comportati bene. Allora, intanto dicono uno sconto tra eleganti, in effetti tra la mia camicia e la sua maglia è una bella battaglia. Beh, tu la camicia con le pants io non la vedevo da un bel po'. È dagli anni Ottanta. È di allora. Ah, è da allora. È di allora. È molto vintage. È? È vintage. Ho aspettato che tornasse. È tanto. Trent'anni, però la trent'anni. Mi è valuta la pena. Allora, parliamo un po' di questa cosa che è interessante, perché non è che dobbiamo nasconderci di fronte alle domande. Però, scusate, perché io poi sono così basso ancora già rispetto a lei, se no faccio la figura che ha fatto lui. Come fa? Aspetta la pubblicità. Perché dopo ti metti a portare la pubblicità, dai. Eh, nonostante tutti i soccoli con i tacchi. Sono sceso ancora di più, è aberrante. Allora, varie scuole di pensiero c'erano. Prendere... Ah, ma di tre. C'era sì. Ma così, sono sceso, cosa devo fare? Sennò sto in piedi. He went down with this chair and he went down with this chair and he went down and he looks like a dwarf. No, gargamella. No, smettia di toccare, vai sotto, vai sotto la colce. Guarda che vado in pubblicità. Allora, andiamo in pubblicità perché non posso fare una domanda serie. Da lì sotto, sembri Amaro Vitali. Ma anche Renzo Montagnani, ora lancia la tua pubblicità perché se no non sono credibile. E poi torniamo. Pubblicità a tra poco. Grazie a tutti.